Ingenti danni causati dal maltempo il 30 novembre e poi ancora il 3 e il 4 dicembre nel territorio della provincia di Cortone. Eventi atmosferici eccezionali, piogge intense, fortissime raffiche di vento e infine una violentissima tromba d'aria. Hanno danneggiato e messo in pericolo tante strutture, non solo private, tra le proprietà colpite, anche danni ingenti a proprietà dell'ente provincia, considerevoli anche quelle sulle arterie viarie di competenza provinciale. Nell'immediatezza degli eventi calamitosi gli uffici e i tecnici sono stati allertati e hanno prontamente effettuato sopralluoghi e verifiche, oltre che avviato da subito, interventi per la messa in sicurezza e il ripristino, ove possibile. Impegnati negli accertamenti propedeutici agli interventi tecnici del settore ai lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali, a tal proposito il presidente Sergio Ferrari ha inteso ringraziare non solo gli uffici ma anche il consigliere delegato Enzo Lagani, prodigatosi già nelle prime ore di domenica e per tutto il giorno a monitorare l'emergenza. Un ringraziamento sentito anche ai tanti sindaci che hanno dato un prezioso contributo alla loro insaccabile collaborazione. Ingenti danni al corpo stradale, ai manufatti di numerose arterie provinciali per le quali a causa della mancanza di fondi si è dovuto procedere alla chiusura. Interessati anche edifici scolastici e pubblici di pertinenza, con infiltrazioni d'acqua dai solai di copertura e lagamento dei piani interrati. Lo stralipamento di diversi fiumi e torrenti hanno provocato notevoli danni alle arterie provinciali adiacente e strutture e attività industriali ed agricoli. Un intero territorio fortemente approvato che oggi deve fare il bilancio dei danni ma soprattutto deve essere in grado di mettere in campo tutte le azioni necessarie per consentire il ripristino delle strutture e garantire la sicurezza delle nostre comunità. L'impatto sulla già fragile situazione economica, sociale ed infrastrutturale impone l'adozione di mezzi e azioni straordinari ed è per questo che il Presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari, in condivisione con l'intera amministrazione, ha deciso di chiedere alle Regione Calabria il riconoscimento per l'intero territorio provinciale dello stato di calamità naturale per l'adozione di urgenti provvedimenti e sostegni finanziari per la riparazione dei danni. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!